Non si può permettere, se agli altri consigli non è l'onestita, non si può permettere, come abbiamo già detto altre cose, non siamo davanti a un bar. E va davanti a un bar, davanti a un bar, davanti a un bar, davanti a un bar, siamo in acqua, siamo in acqua, siamo in acqua, siamo in acqua, insieme a una cosa, quando si aggira il consiglio, non ci siamo mai permessi di dire che non c'è l'etica dall'altra parte, non ci siamo mai permessi di dire a un consigliere comunale di maggioranza o di dire alla maggioranza o al sindaco che non c'è l'etica, non ci siamo mai permessi.